Ieri a Matera su iniziativa del Centro SD Radici un convegno sulla corretta alimentazione e sul fruttarismo sostenibile, la via naturale per l'alimentazione umana. L'essere umano è stato affermato è un animale frugivoro. L'anotomia e la fisiologia comparata indicano in modo incontrovertibile che l'alimentazione idonea alla specie umana è la frutta. L'unico alimento idoneo è salutare in quanto anche le piante sono essere viventi e le parti di cui si ciba l'uomo, radici, foglie, semi eccetera, contengono una quantità notevole di fitotossine attraverso cui le piante si difendono dai predatori e parassiti. Attualmente invece è stato precisato l'uomo civilizzato si comporta come un necrofago, cioè si nutre di cadaveri, animali e vegetali con tutte le conseguenze che questo comporta dal punto di vista psicofisico. La cottura genera anch'essi composti tossici per la nostra salute, i quali aggravano il quadro tossiemico poiché si aggiungono a quelli propri del processo potrefattivo. L'alimentazione dell'uomo civilizzato costituisce la prima causa di tutte le malattie e del processo generalizzato di senescenza, la quale si presenta come una patologia degenerativa generalizzata dell'intero organismo. La proposta alimentare carpotecnica a produzione alimentare di frutta al 100% invece ci offre la via di uscita, hanno detto, da questa degenerativa situazione ambientale. Salutare in quanto soddisfa integralmente i nostri bisogni alimentari è un impatto ambientale minimo quasi nullo.